Salve a tutti, dico salve. Io che ho bisogno dal sigaro? Salve! Allora, siamo qui riuniti per presentare la nostra terza vita, detta anche seconda svolta. Non ho l'appoggio di nessuno, perché è nessuno che mi sta riprendendo. Per me è una seconda svolta, mi sento un attimo ripresa da mille mani che ci hanno presi in questi giorni. E passerai subito la parola a mia collega che sembra essere intossicata da qualcosa non ben definita. Scusate se non ho ancora detto nulla, però mi devo riprendere da questo schifo che ho aspirato, che lei mi vuole portare sulla cattiva strada, quindi mi ha offerto di fare un tiro, però qualcosa deve essere andato storto, comunque è veramente non schifo. Questo per dirvi che, cioè non questo per dubbi niente, però volendo voltare pagina, diciamo che questa è la nostra chort life. E dico chort. Abbiamo superato anche la second life. La second life. E questa è la, quindi, come si dice svolta? Svolta? Svolta. Svoltaion. Second svoltaion, forza of life. Finalmente un video alla luce del sole. Vedete, cedete un pochettino spente? Apatiche? Non è spente, no? Vi sbagliate. Siamo semplicemente, come l'hai detto? Paccate. Relax, relax, take it easy. For that there's nothing that we can do, ok? A weekend dance. A weekend dance. Amici di weekend dance. O muschi macchini lagri. Amici di weekend dance. Bene, abbiamo acquistato un paio di scarpe più stupende. No, non ve le possiamo far vedere. Stile Sex and the City. Sex City. Sex City. E adesso andiamo a fare questo appellitivo alla zona alta di Napoli. Sì. Ragazzi, una notizia assurda. Mancano 73 giorni e poche ore. La nostra partenza. Sì. E questo è quello che vedrete. È un assaggio di quello che vedrete. Allora, questo è quando arriveremo. Allora, Maria Gianna dirà. Ma che cosa fa Maria Gianna? Allora ragazzi, che facciamo? Svuotiamo prima le valigie, disfiamo prima le valigie, poi schiacciamo un pisolino? Volete andare a mare? E Paola, con tanto di costume. Con costume pronte. Però poi c'è un'altra sbottonatura. È sotto a il, come si chiama, l'abbigliamento per la discoteca. Certo. Triplo strato. Triplo strato. Quindi dobbiamo soltanto scegliere. Facci vedere lo strappo. Ecco qui, questa è la misda discoteca. Anni 80? Anni 70? 2000? Ma 2000. No, fammi quella cosa con il fratello del 2010. Fra colore dance. Fra colore dance. Ragazzi, amici di me, iniziamo a portarmi il tormentone. E quale, scusami? Il fra colore dance. Eh? Ah, non l'avevo capito. Ah, ecco, hanno il compito di esportarlo, ma secondo me è già arrivato. Uh, amo che è arrivato. La fra colore. Senti, dobbiamo fare qualche video, come quelli che dicevano, un video, cioè, no, dove noi parliamo. Qualcosa di programmato, tipo quello lì del moto dance. Cioè, tipo, come hai detto, quello lì di Alghero, capi? Salutiamo insieme. Non ce la posso fare ad avvicinarmi. Bene. Bene. Amici della rete. Amici del tipo, catodico. Amici dello scarico. Ma non stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Ma non in quel senso che mi immagina. C'è modo che stessa cosa è stupida. A chi la posso fare? Stiamo arrivando a Rimini. Stiamo arrivando a Rimini. Ci metteremo 73 giorni, bene? Perché faremo delle tappe. Allora, prima tappa, la macchia. La macchia, 88 ore alla macchia. Alla macchia. Che, dove è la macchia? Ma che spento, ma è proprio un sigaro. l'anno prossimo. No, è l'anno prossimo. America Latina. Aspettaci. America Latina. America Latina. America Latina. America Latina. Allora. Comunque ragazze, adesso ci mettiamo in strada. sono le ore otto e mezza otto e mezza oh sono le otto e mezza non so che siete e quattro siete e quattro stiamo per andare a fare una pepe di go tablo 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 amici a dopo ciao